Iniziano i playoff, Max tu sei il giocatore con più esperienza, già il tuo ottavo playoff personale, sensazioni della vigilia? Ma sensazioni sicuramente molto positive, perché siamo in un buon momento, siamo molto carichi, veniamo dalle vittorie importanti. Poi i playoff rappresentano il momento più importante della stagione, è sempre bello giocare, si gioca contro gente forte, partite da dentro fuori, quindi emozioni molto intense. Noi naturalmente lavoriamo tutto l'anno, soprattutto in vista dei playoff, cercheremo di goderceli al meglio. Se dico playoff, il tuo primo ricordo, quello più significativo personale qual è? Sicuramente, io dico sempre, il primo scudetto, il primo scudetto vinto a Trento, perché è stato il mio secondo playoff, perché il primo l'avevo giocato a Verona proprio contro Trento. E poi il secondo qui a Trento, insomma, subito lo scudetto, è stato il ricordo che porto dentro, lo porterò per sempre con me. Un vantaggio o uno svantaggio ritrovare subito Monza affrontata solo sei giorni fa? Ma effettivamente noi ci conosciamo benissimo, abbiamo giocato tante volte, sei giorni fa, ma le abbiamo già affrontate altre due volte, tre volte in totale. Ma no, non è nessun vantaggio, ci conosciamo comunque bene, un po' con tutte le squadre, perché le affrontiamo tante volte durante l'anno. Sicuramente loro vorranno rifarsi, perché in queste partite abbiamo sempre vinto noi, noi naturalmente vogliamo continuare la nostra striscia, loro vorranno rifarsi sicuramente. Comunque dobbiamo ricordarci che affrontiamo una squadra comunque forte, perché ha dei giocatori di assoluto livello, è stata una partita molto difficile. Grazie a tutti.